ah ma bentornati qui su whatsapp economy e oggi partiamo a bomba l'economia è forse la materia più discussa all'interno dell'opinione pubblica viene discussa sia da chi ne sa e di chi è competente in materia ma anche di chi non ha grandissime basi al riguardo e questo va benissimo è importante che venga affrontata anche da chi non è esperto o da chi non fa parte del settore ma questo crea comunque anche dei problemi infatti si creano delle leggende o dei miti riguardo gli economisti e l'economia di cosa tratta l'economia di cosa studia l'economia ed è proprio quello di cui ci copriamo oggi e cioè sfatare alcuni miti riguardo gli economisti e l'economia e se voi ne sapete altri oltre a questi che elencherò io scrivetelo qui nei commenti e magari approfondiremo in un ulteriore video partiamo dal primo mito forse il più famoso e cioè che le persone l'opinione pubblica che parlano di economia ma in realtà non se ne occupano di professione pensano che gli economisti o la scienza economica suggerisce di risolvere qualsiasi problema economico semplicemente facendo incontrare in maniera totalmente libera la domanda e l'offerta senza alcun intervento statale di qualsiasi altra organizzazione sopra le persone che si accordano appunto decidendo i prezzi di domanda e offerta e in realtà questa idea è estremamente sbagliata e non è più così probabilmente questo mito è nato dalla nascita dell'economia della macroeconomia e cioè da adam smith a metà del 1700 quando scrisse il famoso libro e molto importante la ricchezza delle nazioni tra le tante idee di adam smith una delle più famose fu quella della mano invisibile e cioè una mano che secondo adam smith regolava il mercato senza alcun intervento dello stato e che prima o poi le cose si sarebbero messe a posto da sole appunto grazie all'intervento degli agenti economici che in maniera del tutto indipendente andassero a formare un prezzo incontrando la domanda e l'offerta in realtà questa mano invisibile era più che altro una metafora adam smith quando enuncia questo concetto di mano invisibile ci dice proprio immaginate un mondo cioè quindi proprio una immaginazione una speculazione un po come max quando immaginava il mondo comunista con la spartizione dei beni eccetera eccetera e quindi probabilmente è proprio da questo concetto ideato da adam smith se l'opinione pubblica pensa a questa cosa questo primo mito e cioè che basta l'incontro della domanda e offerta degli agenti economici in modo totalmente libero per risolvere qualsiasi problema economico in realtà gli economisti e in generale la scienza economica ovviamente sa benissimo che non basta questo per risolvere qualsiasi problema economico c'è da dire che effettivamente in media gli economisti sono molto più favorevoli al libero mercato rispetto magari a una persona comune però ci ho detto sono molto consapevoli che il mercato e l'interazione libera del mercato molto spesso può fallire o può non distribuire le risorse in maniera efficiente parliamo ad esempio delle crisi momento in cui appunto il mercato può non funzionare correttamente e questo gli economisti lo sanno benissimo oppure ad esempio riguardo i temi ambientali ci sono dei fallimenti del mercato che rendono l'allocazione deficiente delle risorse non più efficiente per l'appunto quindi no non tutte le risposte dell'economia portano ad una libera contrattazione della domanda e dell'offerta e basta guardarci anche intorno nessuna società odierna si basa sul libero commercio completo e indiscriminato c'è sempre l'intervento dello stato e attualmente viviamo anche nelle società anglosassoni che magari sono quelle più liberiste viviamo comunque in una economia mista quindi tra l'economia statale programmata dallo stato l'economia libera fatta dagli agenti economici che perseguono i propri interessi non esiste forse non è mai esistita una società completamente liberista e incentrata sull'individuo senza alcuna interferenza di un ente o istituzione sovra individuale è un sottomito che riguarda comunque questo ambito è il fatto che anche noi ragazzi che studiamo economia all'università non studiamo i preconcetti liberisti o tutte queste cose qui uno dei primi modelli che veniamo incontro è proprio un modello keynesiano e quindi con un intervento statale che stimola l'economia perché molto spesso soprattutto nei commenti mi scrivono ah questo è studiato economia questo è un liberista del cavolo in realtà quando si va all'università proprio uno dei primi modelli è quello keynesiano col moltiplicatore keynesiano eccetera eccetera quindi speriamo che questo primo mito ce lo siamo tolto di mezzo molto spesso nel linguaggio comune utilizziamo la parola economico come qualcosa di poco prezzo o comunque di risparmiato e quindi magari molto spesso anche di poco valore e quindi da qui deriva anche l'idea che l'economia sia una materia che tratta la scienza del risparmio del non sprecare del tagliare i costi e in realtà non è esattamente così l'obiettivo principale dell'economia è quello di essere efficienti quindi di non sprecare le risorse ma questo non significa tagliare i costi e questo concetto di risparmio quando si parla di economia me ne accorgo anche molto spesso quando parlo con le persone quando magari entra nel discorso il concetto della competizione della competitività soprattutto quando appunto richiamo questo concetto subito le persone pensano a la competizione al risparmio la competizione a tagliare i costi ad essere il più economico per l'appunto in realtà questo concetto di competitività risparmio è una caratteristica soprattutto che si è sviluppata negli anni 20 del 900 grazie al fordismo quando le materie prime erano tutte standardizzate uguali e vinceva il prodotto che costava di meno sostanzialmente da qui anche una famosa frase di ford e cioè potete scegliere qualsiasi colore della macchina della vostra macchina l'importante è che sia nero deriva proprio dal concetto di tagliare i costi di rendere tutte le materie i prodotti venduti standardizzati e farli costare il meno possibile grazie a un processo tayloristico in realtà ormai questo concetto è in disuso e quando si parla di competitività non si parla più solamente di competitività di prezzo ma anche competitività riguardo alla qualità del prodotto e per raggiungere certi standard di qualità del prodotto bisogna investire bisogna spendere bisogna non essere economici anzi molto spesso chi vorrebbe una ferraria economica no se vogliamo e quindi diciamo che l'economia si occupa non di tagliare i costi o comunque di essere economico quindi imparare alla gente a diventare economica in realtà l'economia studia come essere efficienti e molto spesso per essere efficienti bisogna spendere bisogna investire in nuovi macchinari informazione eccetera eccetera quindi quando parliamo di competizione e competitività delle imprese basta pensare al risparmio dei costi al taglio dei salari allo sfruttamento dei lavoratori eccetera eccetera quindi essere economici in realtà si può essere benissimo competitivi anzi l'unica strategia al mondo d'oggi per essere competitivi è quella di essere non solo competitivi a livello di prezzo ma anche a livello di qualità del prodotto e che questa qualità venga percepita dal consumatore e per raggiungere questa qualità come abbiamo detto bisogna investire bisogna spendere i soldi che poi verranno guadagnati in futuro e sapete chi vi può insegnare a rendere la vostra impresa competitiva l'associazione sei school of entrepreneurship ed innovation di torino che da settembre inizierà il suo bootcamp di dieci giorni chiamato inventor in questo corso in dieci giorni potrete sviluppare la vostra idea e renderla da un'idea campata per aria ad un vero e proprio prototipo da poi poter poi sviluppare la sua successiva startup l'ho fatto anch'io l'anno scorso e i ragazzi di sei mi hanno chiesto di parlarne in modo gratuito questa non è una sponsorizzazione io mi sono trovato benissimo nel loro corso ho imparato un sacco di cose riguardo l'imprenditorialità il mondo delle startup e il mondo anche di lavorare in gruppo è un corso totalmente gratuito e quando mi hanno chiesto di parlarne sul mio canale youtube io li ho accolti a braccia aperte ho ricambiato il favore quindi non è assolutamente una sponsorizzazione se siete interessati a capire di più del mondo delle startup dell'imprenditoria del lavoro di gruppo e conoscere persone nuove ve lo consiglio assolutamente vi lascio tutti i link in descrizione e si svolgerà molto probabilmente a torino coronavirus permettendo e se volete saperne di più vi lascio tutti i contatti qui in basso ve lo consiglio assolutamente di nuovo l'ho fatto anch'io l'anno scorso e guardate come sono diventato torniamo a noi l'economia come materia sul come fare soldi anche questo è un vero e proprio mito infatti l'economia non studia ogni singolo individuo e su come questo possa realizzarsi a livello economico creando soldi e ricchezza in realtà molto spesso il vero focus dell'economia è la società per intero quindi una moltiplicità di individui questa cosa può essere dimostrata tramite numerosi esempi io ve ne cito solo alcuni ad esempio la situazione di monopolio che è una situazione in cui una singola impresa opera all'interno di un singolo mercato questo gli permette l'impresa di fare extra profitti proprio perché non essendoci una competizione può alzare il prezzo in maniera superiore rispetto a un prezzo normale l'economia però non incentiva l'operato del monopolista non è contenta di questa situazione non incentiva l'impresa a fare ancora più soldi quindi magari ad alzare ancora di più il prezzo perché appunto si trova in una situazione di monopolio in realtà l'economia questa situazione la detesta perché appunto il prezzo è superiore rispetto a quanto dovrebbe essere e questo prezzo superiore crea degli svantaggi nei confronti della società e di ogni singolo individuo quindi no non l'economia non studia su come ogni singolo individuo o ogni singola impresa può fare ancora più soldi questo vale anche a livello manageriale infatti e questo è un ulteriore luogo comune il manager o l'impresa singola l'obiettivo dell'impresa del manager non è quello di creare profitto in realtà l'obiettivo è quello di creare valore per i propri stakeholder cioè per le persone che hanno degli interessi riguardo quell'impresa l'idea che l'impresa ha come obiettivo soprattutto quella privata ha come obiettivo quello di creare profitto è un'idea completamente sbagliata che in università non si insegna più in realtà appunto come abbiamo detto l'obiettivo è quello di creare valore altrimenti se effettivamente l'obiettivo dell'impresa è quello di creare profitto non si spiega come amazon o airbnb o tante altre startup siano nate e sopravvissute per decenni senza creare alcun profitto questo perché ovviamente il primo obiettivo dell'impresa è creare valore per gli stakeholder di nuovo non per la singola impresa o per il singolo manager ma per le persone che hanno qualche tipo di interesse nei confronti dell'impresa quindi l'economia non è una materia egoista pensa alla società e a come la società possa progredire in maniera più efficiente possibile molto spesso cosa si fa quando si vuole screditare un economista gli si dice che pensa in modo sbagliato utilizzando la matematica e pensando che gli agenti siano totalmente razionali che quindi siano consapevoli di tutto ciò che vogliono e in realtà anche questo è un luogo comune e ogni economista sa benissimo che nessuna persona è un agente perfettamente razionale che è in grado di prendere qualsiasi decisione in maniera impeccabile questo mito deriva da una definizione che in letteratura economica è molto conosciuta e cioè la definizione di homo economicus che tra l'altro è il nome che prende anche l'abbonamento di whatsapp economy se volete sostenere questo canale basta abbonarvi e troverete come nome dell'abbonamento come tier dell'abbonamento homo economicus cosa ci dice questa definizione di homo economicus homo economicus è un agente economico che è capace di definire in qualsiasi situazione le preferenze migliori per i propri interessi e da qui poi questo è un primo input che permette e permetteva soprattutto in passato agli economisti di teorizzare determinati modelli economici basati sulla matematica e fondamentalmente gli economisti sanno benissimo che questi modelli sono limitati e non troverete mai nessun economista di proporvi un modello così astratto che possa rappresentare al meglio la realtà sono come abbiamo detto dei modelli astratti semplificati che aiutano gli economisti a fare dei ragionamenti ma sicuramente non hanno la pretesa di dimostrare cioè di rappresentare in maniera completa la realtà faccio un esempio alle superiori abbiamo studiato fisica abbiamo imparato le formule sulla velocità di un corpo anche lì in quel caso nella materia fisica che è definita come scienza dura si presupponeva che non ci fosse l'attrito dell'aria e l'attrito magari anche del suolo è ovviamente una semplificazione per ridurre all'essenziale il concetto e capire alcune dinamiche allo stesso modo questo questa pratica la si fa anche in economia quindi sintetizzando alcune cose escludendo alcune variabili e rendendo tutto all'essenziale questo aiuta l'economista a creare dei ragionamenti lodici o capire determinate cose ma mi sono dalla sveglia non capisco perché ma è ovviamente l'economista sa bene che i modelli sono comunque estremamente limitati e ad oggi non esiste alcun modello che riesce a descrivere in modo perfetto la realtà tra l'altro proprio per sfatare ancora di più questo mito stanno avendo sempre più rilevanza delle materie che escludono completamente queste ipotesi di razionalità dell'individuo o di astrattezza dei modelli infatti ad esempio stanno avendo sempre più forza delle materie come l'economia comportamentale o la teoria dei giochi che sono delle materie che includono all'interno dei ragionamenti economici proprio questa condizione della persona che non riesce a capire a decidere cosa è meglio per sé e quindi anche fa rientrare tutto il discorso psicologico eccetera eccetera quindi no gli economisti non sono delle persone che creano dei modelli astratti hanno la presunzione di descrivere il mondo tramite questi modelli sono ben consapevoli dei limiti di questi modelli anzi tutto il contrario molto spesso sanno che la psicologia umana interferisce in maniera enorme nelle decisioni delle persone molto spesso le persone fanno delle scelte stupide di questo ne sappiamo lo sappiamo benissimo però poi magari è utile anche creare dei modelli su grandi numeri a livello statistico per cercare di capire alcuni aspetti della realtà ultimo mito per oggi poi come vi ho detto anche all'inizio se conoscete altri miti luoghi comuni o curiosità riguardo l'economia che volete sapere quanto di vero c'è all'interno di questo luogo comune scrivetelo qui sotto e magari io vi faccio un altro video abbiamo parlato di economia sul come fare soldi e di come questa cosa sia effettivamente un mito invece adesso parliamo degli economisti e della loro sete di soldi infatti molto spesso si pensa che gli economisti pensano che l'obiettivo principale è quello di guadagnare più soldi possibili cioè più contante avere il conto corrente più alto del mondo e in realtà anche questo è effettivamente un luogo comune infatti gli economisti non sono così materialisti attaccati al denaro in realtà il loro principale obiettivo per cercare di capire quanto una società è ricca e quanto un individuo è povero o meno si va a basare sul possesso di beni e servizi da parte di quel individuo o della società nel suo complesso e un modo per calcolarlo è proprio quello dei soldi ma in realtà l'obiettivo primario è quello di vedere quante cose ha una persona a disposizione da poter utilizzare e quindi cosa si fa cosa cosa fanno gli economisti non calcolano non calcolano il salario nominale e cioè il numerino sul conto in banca in realtà vanno a calcolare un rapporto e cioè il numerino del conto in banca quindi l'importo numerico del salario dello stipendio del padrimonio diviso il livello dei prezzi in un determinato contesto cioè quanto costano i beni e servizi all'interno di una determinata società se ad esempio un chilo di pane costa un euro e io nel conto corrente ho un euro posso permettermi solo un chilo di pane se invece nel conto corrente ho sempre un euro ma il chilo di pane costa due euro ovviamente io non sarò ricco quanto la situazione precedente ma sarò ricco la metà perché potrò avere a disposizione solo mezzo chilo di pane quindi gli economisti non sono attaccati al denaro non vedono quanti soldi ha la gente ma in realtà vede quanti beni e servizi la gente può comprare tramite appunto il denaro e quindi da qui deriva la fondamentale distinzione tra salario nominale e quindi ripeto il numerino in conto in banca e salario reale e quindi il rapporto tra il salario nominale e il livello dei prezzi dei prodotti e servizi che una persona può comprare tra l'altro gli economisti sono ben consapevoli che alcune cose sono molto difficili da valutare a livello economico in base a un prezzo ad un valore monetario ad esempio la gratificazione di una persona o il capitale umano di una persona quindi tutte le sue conoscenze sono molto difficili da valutare a livello economico a livello monetario e questo gli economisti ovviamente lo sanno perfettamente o ancora un'altra difficoltà che hanno gli economisti è quello di valutare il valore di un paesaggio oppure di un monumento è qualcosa di estremamente complicato da valutare e che molto spesso effettivamente non si fa e questo crea degli ulteriori problemi a livello economico perché uno dei problemi della situazione ambientale la condizione ambientale è proprio perché non si riesce a dare un valore a un determinato bene come ad esempio l'aria o il paesaggio o la vista di una montagna da qui derivano tutta una serie di fallimenti del mercato come dicevamo prima che generano tutta una serie di problematiche quindi gli economisti utilizzano la moneta ma in realtà è solo uno strumento per calcolare quanti prodotti e servizi una persona può ottenere e beneficiare e in realtà sono perfettamente consapevoli che non tutte le cose possono essere stimate tramite un valore monetario e quindi molto spesso quindi non sono così egoisti e avidi hanno un cuore non si direbbe ma gli economisti hanno un cuore detto ciò spero di avervi dato qualche informazione utile spero di essermi spiegato al meglio delle mie possibilità e ci vediamo al prossimo video che non so quando sarà ma lo sarà no in realtà settimana prossima dovrebbe esserci un ulteriore video su non so cosa tra l'altro da metà settembre inizierà la stagione 3 di whatsapp economy e ripeto se vi interessa il progetto di whatsapp economy e se volete approfondire di più il progetto abbonatevi e avremo un contatto un contatto più diretto tra me e voi e potrete scoprire in anteprima tante piccole news sul progetto whatsapp economy il costo è di 2 euro al mese in basso tutte le informazioni alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti